Non te l'ho fatto più Ho un grillo per la testa, ho un grillo per la testa Buongiorno agli amici del blog di Beppe Grillo, sono Samantha Di Perzio Oggi sono qui per parlarvi della mia ultima fatica Imprenditori suicidi, il collasso delle imprese italiane Questo libro avrebbe potuto chiamarsi anche lettere dalla crisi Perché quasi tutti i piccoli imprenditori che ho intervistato hanno scritto alle massime cariche istituzionali Proprio per denunciare una condizione sociale In molti casi le risposte non ci sono state Quando ci sono state, sono state più offensive del silenzio All'indomani della quarta vittoria di Silvio Berlusconi nel 2008 La stampa estera aveva ben chiara la situazione Ad esempio l'Economist titolò il ritorno del buffone Il Financial Times, deprimente la prospettiva di un nuovo governo Berlusconi Quindi a chi non era chiaro? Probabilmente proprio agli italiani Infatti molti dei piccoli imprenditori che ho intervistato mi hanno confidato di aver votato il PDL oppure la Lega E oggi sono molto arrabbiati perché loro mi raccontano che già dal 2001 ci sono state le prime avvisaglie di crisi in Italia Dopo il crollo delle torri Giovelle Poi c'è stata una leggera ripresa Ma nel 2008 con la speculazione finanziaria partita dall'America C'è stata una situazione di stagnazione, recessione Che tutte le mattine si alzava per andare a alzare le saracinesche Per aprire i canciali della propria impresa Ad un certo punto si rendeva conto che le telefonate non arrivavano più Gli ordini non arrivavano più E lo stesso per i lavoratori che non si alzavano più per andare a lavorare Perché erano in cassa integrazione per la maggior parte della settimana o addirittura del mese Perché nel frattempo c'è stata una sorta di selezione naturale Nel senso che chi poteva attingere ai propri risparmi Ha potuto continuare a mandare avanti la propria impresa Mentre altri non potevano più, avevano già dato tutto E quindi ad aprile di quest'anno c'è stato proprio un picco dei suicidi Per un po' se ne è parlato Poi ad un certo punto dei suicidi dei piccoli imprenditori, dei lavoratori Non se ne è parlato più Ci fu una dichiarazione del Premier Monti Che in Grecia la situazione era molto più difficile rispetto a quella italiana Che i suicidi erano stati molti di più Quindi non dovevamo preoccuparci E quindi non si parla più di suicidi ma si parla di ripresa Una ripresa che ci sarebbe stata nel 2013 Ovviamente il 2013 ha le soglie e ormai di ripresa si parla nel 2014 Non si è parlato più di Giuseppe Campaniello Che si è dato fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate a Bologna E la vedova Tiziana Marrone che ho intervistato Che con un gesto così estremo Lei si aspettava quello che sperava il marito Un po' di attenzione e aiuto Invece questo non c'è stato E anzi lei si è sentita dire Signora non si lamenti perché almeno lei ha un tetto sopra la testa In alcuni casi sono state le banche che ad un certo punto hanno chiuso Rubinetti O nel caso di Piera Petrini-Levo Per darle nuovamente fiducia Quindi per rinnovare i fidi Le hanno fatto sottoscrivere dei contratti derivati E lei si è trovata ad un certo punto a dover pagare degli interessi altissimi Che le stavano facendo chiudere la sua azienda Ed ha avuto il coraggio di denunciarle e quindi di riprendersi la sua attività In altri casi invece ci sono stati degli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate Che si basano sugli studi di settore Che non hanno tenuto conto che c'è stato un cambiamento del quadro economico E ad esempio la testimonianza di Furia Verena Mette in risalto questa sanzione Che lei si vede arrivare per avere vaso alcune migliaia di Euro E lei è incredula Comunque chiede al suo commercialista E si rende conto che questa evasione in realtà non c'è stata Per far ricorso occorrono dei soldi E quindi alla fine è costretta a pagare questa sanzione ovviamente scontata Lei a questo punto si dice Ma se io avessi evaso 200.000 Euro come loro mi contestano E pago una multa di 10.000 Euro Io a questo punto me ne sarei intascati 190.000 E invece in questo caso così non è stato Ed è questa anche un po' la rabbia dei piccoli imprenditori Che non c'è mai stata una lotta seria all'evasione fiscale E così anche in quest'estate c'è stato il tormentone dello scontrino Come se gli esercenti, i piccoli esercenti fossero il problema dell'evasione Invece c'è Giuseppina Virgili, un'imprenditrice di Empoli Che lei spiega benissimo come la sua attività è stata messa in crisi Delle attività cinesi perché si tratta di un'attività del settore tessile E come i cinesi ogni anno attraverso il transfer money Mandano in Cina miliardi di Euro In questo libro non parlo soltanto in generale della situazione italiana Che fra l'altro non ci sono differenze fra nord e sud del paese Cioè il paese è tutto in crisi, gli italiani sono in difficoltà C'è una rabbia, una rabbia generale e molti parlano addirittura di violenza Che si potrebbe risolvere soltanto con una rivoluzione Quello che è chiaro, veramente ha un coro unanime È che qualcuno deve pagare Quindi chi ha creato questa crisi deve finalmente pagare il conto E soprattutto la classe dirigente dovrebbe andare via Non dovrebbero più continuare ad amministrare questo paese Per almeno tre anni il governo Berlusconi ha tenuto nascosto che c'era una crisi Però ad un certo punto ci sono state una serie di dichiarazioni Che affermavano che il paese stava uscendo meglio degli altri paesi europei E quindi Giulio Tremonti il 29 aprile 2009 Dichierò il rischio di un crollo del peggio abbastanza alle nostre spalle Su questo abbiamo una visione comune con gli imprenditori Ad un certo punto i cittadini si sono rimboccati le maniche Perché quando vedevano che non avevano risposte dai politici Dalle associazioni di categoria che interpellavano Hanno deciso di creare dei movimenti E Luca Peotta racconta un po' la storia della sua azienda Che l'eredita dal papà Quindi oggi Luca Peotta si ritrova a difendere con le unghie e con i denti la sua azienda E lui cerca di parlare appunto con gli interlocutori politici Quali non lo ascoltano Perché lui dice bene io che cosa posso fare Posso parlare con il massimo esponente della mia regione Allora era Mercedes Bresso la presidente della regione Piemonte E quando tu sei arrivato al massimo e comunque non hai avuto le risposte Devi trovarti una soluzione La soluzione che lui appunto trova insieme ovviamente ad altri piccoli imprenditori È quella del movimento Imprese che resistono Mario Frasacco è uno degli imprenditori che si toglie la vita Ho intervistato Giorgia Frasacco Appunto la figlia di Mario Che si rende conto che ovviamente qualsiasi morte si poteva evitare Soprattutto se fossero stati ascoltati E lei fra l'altro puntualizza anche della campagna che è stata fatta contro l'evasione fiscale Infatti lei dice ma mio padre non era un parassita Cioè i piccoli imprenditori che oggi non possono pagare le tasse Non possono farlo perché non hanno i soldi E comunque hanno dichiarato quel reddito Perché se non l'avessero dichiarato probabilmente i loro soldi sarebbero alle isole Cayman Le piccole imprese il datore di lavoro e i lavoratori lavorano fianco a fianco Quindi il datore di lavoro molto spesso fra pagare le tasse e pagare lo stipendio all'operaio Preferisce ovviamente pagare lo stipendio all'operaio Perché si rende conto che anche il proprio dipendente a una famiglia ha delle spese da affrontare E questo ovviamente questo lato umano non viene mai preso in considerazione Quando si è insediato il governo Monti che inizialmente ha parlato di rigore, di equità Alcuni hanno pensato finalmente, finalmente si parla di equità Ma poi in realtà non sono stati tolti i privilegi alla casta, alla chiesa ancora le sue esenzioni Le concessioni pubbliche non sono state ritoccate Quindi nuovamente si è andati a pescare sul sicuro Quindi sulla fascia di reddito medio-bassa Anche i cittadini che ho intervistato propongono delle soluzioni Perché sono stanchi, sono sfiniti Per loro è una situazione intollerabile E la loro soluzione è che finalmente se ne vadano tutte le persone che hanno causato la crisi di questo paese La loro crisi e soprattutto coloro che hanno stracciato i diritti dei lavoratori E per loro l'unico modo possibile è quello che paghino finalmente loro Che ci siano delle responsabilità personali Passate parola